... ... Questa volta ad inziarci con la sua umola è uno soprano dalla fama italiana internazionale figlia d'arte tra l'altro mamma scultrice e papà noto tenore alle spalle numerose esperienze sanitarie dall'estero alla chitarra ritorna il chitarrista entro i palazzi del team Move sperando che l'applicatore funzioni con noi Silvia Pietrantonio in Memory con noi Silvia Pietrantonio in Memory Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.